Allora ancora a sedio di Canelli ancora a sapori del Piemonte ma di cinque secoli fa questa volta siamo con i dolci siamo con Michelina che ci spiega dove siamo e chi è il maestro confettiere che 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 fa queste cose buonissime. Allora il maestro confettiere è mio marito che si chiama Sergio Bosca e non è del 600 però è più giovane anche se ha i capelli bianchi però produce prodotti per la sedio a base di nocciole Sono dolci tipici? Sono dolci tipici speziati e particolarmente forme molto semplici molto naturali facciamo la tiro al moscato facciamo delle conchiglie con una pasta di nocciole facciamo dei delle fagottini con le mele cotte e poi delle meringhe albume sono tutte ricette che si rifanno al 600 vero? Sì 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 sono tutti berlingozzi che si rifanno al 600 e di che ricette ricette riprese da questi manuali del 600 sì grazie prego grazie a voi grazie a voi Grazie a tutti.